Salve a tutti, benvenuti in questa nuova parte da un attimo nel 192.194, forse noi abbiamo esplorato un po' le rovine di flemmiglia, abbiamo trovato la NL in scacciobrome. Allora io ho messo radio al posto di chiesa perché mi serve per esempio qualche albero a far taglia. Possiamo incominciare, dai. Allora, qua andiamo qua sopra. Oddio, no. Allora vabbè, andiamo subito, vediamo cosa c'è qua. Ah, c'è questa signora. Sta facendo un... sta facendo un piso! Ehm, sta subito, c'è solo un Trespo! Ah, anche tu adesso che posso arrivare. Vedete? Ok. Penso sia Trespo. Dovesse volare per sempre all'ultimo precipitato. Ok. Metto questo qua. Finché c'è una slide noi continueremo a correre. Ok. Allora posso andare nell'erba adesso. La mia squadra di Pagno è diventata più forte Pagno, ho lavorato in Arranci. Non vado molto pieno. No, non vado molto pieno. Ah, mi sto facendo una donna. Non l'ho mai vista. L'ho mai vista. L'ho mai vista. Ah, non ho un fattore. Un fattore. E' questo qui. Mi serve Zufre... Non pugnoare Zufre. Non pugnoare Zufre. Noo. Nooo. Ammazza di me. Non guida. Non guida. Oh no. Nooo. Non ho ucciso di Zufre. Nooo. Ehm, me va bene. Vai, ammazzia, 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 ammazzia Hai tante spagnozze di point, mamma mia La tua squadra di Pokemon è davvero fidata Andiamo, quando apprezzo me i Pokemon non percepisci Soprattutto che non ha anche il loro affetto Ma vado a andare in bici Mamma mia Non ho anche il tempo di andare in a live Ma vado a fare una Pokemon Allora, ammazzia un attimo anche la mappa però Perché non mi conosco, quando devo girare No, vabbè, intanto per farlo non ci credo andare la sua Mappa Ma per poco dovrei girare, ok Oggi è la gemellina Proviamo Però poi dovrei tornare dietro per fare anche i due sfidanti Orrae, lotteremo contro tanti Pokemon E' viva, lotteremo tutti insieme Per riettira Oh Dio Pikachu Non è una buona mossa per vivere Non è un buon avversario per vivere Allora, pugno rapido per per fuori E poi Poi Ho per zana su Pikachu No, non è morto Non ci credo, no Vabbè, il per zana vediamo se riesco Vabbè, non ammazzano Cioè, lui non riesce a ammazzare con gli altri superficiacei Mentre tu, vado rapido con gli altri superficiacei Non riesce a ammazzare Bravissimo Oddio Vabbè, è da notte Naturalmente Naturalmente Pochissimo per farlo Vabbè Ce l'abbiamo messo proprio tanto ma ben persi Ci abbiamo provato insieme, non è abbastanza Anche la nostra mamma, non è giusto Ah Stiamo a passare Poi è eterno, mamma, la stessa mi insieme Vabbè è divertente Abbiamo anche questo E guarda che Guarda come è luce di pena delle mie pacote Ho visto, no? Oh, lo avevo poco Comunque O bel più Mmh P Scusiamo se è la nostra regia. Io sono scemo, sono scemo veramente. Perché sta rifiando? Cioè io mi ho fatto confusione con l'altro, con l'altro popolo. Vabbè, tutto perfetto, non l'ho ucciso, lo scherzo. Cavolo, quanta esperienza. Ehi, hai guardato bello, no? Centro commerciale, proprio lo è davvero incredibile. Sai che hanno persino i popoli? Eh, a me non me ne frega. Ok, adesso devo andare di là. Qua? Indietro, torniamo indietro. Perché non posso correre nella larga? Ma mamma mia, un Pony Town. I'm on fire. Oh, guarda. Non mi va di fatto guardarlo. Oh, Gino. Ancora Pony Town. Ma loro l'ho fatta apposta. Di cosa? Mi andiamo. I fidanzatini. Sì sì sì. Guarda qua, ti mostrerò quante volte le gambe... Ah, mamma mia, padre e figlio, va bene. Ma poi se neanche prendo il palmo, quando ora sto... E riesco a riposare. No, non vediamo qua. Ah, vai Dio. Man, ci faremo. Oddio. Siamo... Oh, finché muoiono. Allora, pisto l'acqua. Un brutto colpo, per fortuna. Questo, oddio, oddio, non morire. Eh, non morire il Bibano. Sì, vabbè. Tutti subibano, il poverino. Quindi le pene devono diventare anche... Tintenna anche. Ammazza, tipo. Vai, ucci, morto, morto, morto. Quanto mi dà? Appena. Cioè, mi dà più point, tra poco. Vai, sì. Se ne vanno a morire mamma e Tintenna. Ma perché Tintenna e Tintenna? Morto. Capuno. E anche padre e figlio insieme sono riusciti a farci. Oh, no! Vabbè, ma mi dispiace. Da domani mi prenderò di più. Proprio, ma se domani inizierò a prendermi da fare. Eh. Sembra di capire che legame caratteristiche da Tintenna. Di poco, ma è come quello tra genitore. No. Ah, certo. Ah, io riconsidio come si fanno i due figli. Invece di Bib... Beh, Bibar, però, lo sto allenando. Quindi è mai solo... Oddio. La signora che va... Si vuole... Infatti, io devo andare. Caffè baita, latte appena molto. Cioè, io ho sprechiato la super pozzoni. Che... Se non è lì, va bene. Ma non c'è la mia mamma. Vittoria. Madwee. Qua ci voleva Bibaroth. Qua ci voleva Bibaroth. Ora che fu... Nooo. Offa... Tia, quanti... Tia, ma quanti via di Pokémon stiamo vedendo? Bonesline... Non so se l'ho già detto Bonesline. Non so se l'ho già detto Bonesline. Nooo. Adesso si contro, ma non ho accetto che mi fa le scine. Le... Unorafide. Inferno. E... Ripeti... Porcavolo... Doimont. Inferno. Nooo. Siamo davanti che attraverso la bussare. Rai, la cucciù nu è scfrida. Sto inniare a riuscire a riuscire a creare. Hai compito! Ah, bravo! Eh, eh, io ho fatto dato. Io li credo come spesso. E tu? Oddio, ma quante sarei? Ah, vi ho dato! Alcune delle nostre sulle sono i tipi di impagrazione valla dietro. Poi come vuole, a mele non faccio. Ma io vorrei curare. Ah! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Aspetta, un attimo. Questo luogo per me è fondiggiare a volontino. Ma non c'era mica il posto per il fucile. Ah, no, qua. Qua è proprio l'ena. Questo qua è l'opposto. Ok. Io qui non c'è un buon fanno che è morto. Che è morto. Che è morto. Un po' Un po' Vediamo con un bracciere. Vai! Oh! Un bagno. Adesso lo cura, no? Un po' 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 sono un cerchio a pokémon e vado a prendere meh oddio mancele baby pokémon ma io non vedo l'olio di internet che picpoli oddio 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 morto di Non è morto, la morta è riportaciata, vabbè a vedere ciò che gli hanno detto che la rifugia, non so. Uff, cosa hai fatto al mio cacchia madre? C'ho messo una vita che ha chiamato il cacchia madre. Mi ha passato il cacchia di freddo perché ha trattato il mio pacchia, ma dato che non è nato ancora deboli con lui, quando lo catturebbe? Mi chiedeva, ma andiamo a vedere se mi fa con il cacchia, non so se mi chiedeva. Chi c'è Orlando? Oddio, è... Oh mamma, era per me. Era bellissimo nel cartone. Mi era piaciuta anche la storia come quando lui e Alcuncela non conosce. Ma guarda, era proprio uno, aspetta, c'è che... L'avevo incontrato? Che... Mentre... Sì, che stava... Mi piaceva il miele sull'albero, sì sì. O la linfa dell'albero, non importa. Ma la scienza non è che ti senti. Lo so, più lunghe di tutti gli altri. Ma la galassina non so, penso che ti condividi un po' un po' un po' un po' un po'. Vediamo... Gruppo del P6, da chi mi muove? Nessuno dirò le prime spostanze. Ho capito. Un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Non c'è lo dici che c'è. Che dici, Ryan? Porta la sfida di polizioscopio. C'è qui. Brunzel. Flaner, non c'è niente. Qua c'è niente. Allora, vediamo cosa può più. L'unico è meglio di droga, c'è niente. Non c'è niente. Niente, non fa niente. Bene, vengono l'accelazione. Non c'è niente. Dov'è da un'altra cosa che non c'è un po' più da te? Esclusiva? Ok Guida il gioco Eh La roba della labbra c'è Extra odio E' tutto il telepore per perdone Ma ti svegli? Non è l'amice Non è l'amice Che skill è tornato sempre? Non è più confuso ma viene E ti fa anche una Eppure non è l'amica Cacca chi ci ha visto Che se lo vediamo insieme a si Non so Tra l'ospiro c'è un'amica Andavo, sono ancora asserzionale Non posso dare sempre ira di te Shalom Vediamo che Vediamo che C'è che era come Ah questo qua No, usiamo l'amica di dramma Non mi ricordo più che Di che tipo sono questi po' qua E' morto Per mρώ Per termine Per terreno Per termine tutto e muore bravo tu si che sei un genio non posso mangiare sei troppo farta perché cerca che star farsi se devono essere un posto ideale allora vediamo sta rete vedere max spesso fai a volte rallenta il tempo del resto non essere umano a me non me ne frega niente ma poi ti fa tolto cosa ti prendi una bella riniccia ma non fanno la vita di niente mentre l'altra sarà infinita come ho detto la vincita è molto utile l'altra dopo l'attacco di un po come un micro e sopporto la doppia chi c'è dall'altra porta vedi ho fatto bene a prendermi badio si poco ma un lotto va bene il tuo cuore batta l'impazzata mentre ti avvicini pensi di poter vincere con facilità albertino cintura nera ma c'ho fatto bene a mettere stare via non mi ricordo neanche che regalarsi solo stare via stare via stare via 2 e 3 certo si evolvono i numeri pari quindi ho 32 o 34 vai era assalto inizio poi c'è un attacco d'aria evoluto 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 se a se si è aumentato il livello ma c'ho ok andiamo di nuovo questa volta attacco d'aria poi se non c'è solo una ciocco ma c'è una ciocco ma c'è una ciocco ancora una ciocco c'è una ciocco e non c'è una ciocco c'è una ciocco blu 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 è negato se andrò qui non ha ancora la possibilità per colar conto ciò che gli ha detto professionisti lastrapunno cioè dal testo inciso non vedrete l'alto retenuto questa lastra è la tua potenza per girare e giocarsi con tutti e te lo sai con un altro spesso bra 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 c'è neanche il tempo di girare neanche i tempi passati con la la si scatta guarda guarda se non potete nemmasci non me lo pregano giuseppe oh dio oh bravo super potenza presa l'alto retenuto con lo scuola e oh vai super arrabbi che mi piace tutto era per tutto è venuto sotto controllo la sua potenza il 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 è stato che è speciale l'attaquer prisa sullata attista attacco imparare un minchino attacco ce face a base sulla attista attacco speciale il medio mi ha la capitan mi ha la capitan lo ha vese mokos a rima che arco è ero e e troppo due batti ben iscriviti abbiamo qualcosa che si può e per poter si ruba e non finalmente li per funzioni siamo a vedere Ma cos'è sull'ex forciatore questo? Non so, non so, cos'è? Ecco, ho finito a non farvi l'erba e tutto. Guardi un goccio di storia che penso mi fanno troppo forte. Va bene. L'azzaro. Guarda un po' cosa vuole. In quest'ora li abbiamo... Però ecco, vediamo che c'è ora. Andiamo, 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 ma... Tu 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 tu... Ma... Si. Vi, vi... Guarda, vai. Guarda una cosa vuole. Guarda calma. Guarda guarda le regla. merito oddio, questo qui è quello che fa invidia vai non l'ha fatto invidia dovrei essere immagrito dopo questa sua dovresti la mangio come un porco il tempo deve essere nuovo ma non è un po' più forte ma non è un po' più forte non può arrivare ma non è un po' più forte ma non è un po' più forte ma sono e forse ci sono le nostre ultime non vediamo che sono il piccolo problema del poker cross questo arriva al 22 questa azione è buona per allenare i poker al 22 rispetto a quali che c'erano in grado 19 vicino al corifore mamma quanto tempo ci ho messo da negarli i pochi non ho una visita quando buonissimo per colpa La, 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 la. Fare gioco fa bene ma bisogna stare, che se lo sto a fare. Allora, ok qua. Cura totale, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Oddio qua sono i giomali di pantone e i pantone sono bello. Oddio, un mary, però c'è già golden, cosa faccio? Vediamo quanto mi conto vi da l'esperienza. Sì, guarda. È tutto colpo, guarda, è già quello colpo. Ok, sono pronti, vediamo se si evolve a questo livello. No, allora sarà il 34. Di solito si brilla di pari, quando c'è ballo di poco. Vediamo con il maxi. Lotto contro chiunico, il quotidiano trovo più forte. Parteciperò alle sfide della palestra di Europea per la prima vita. Oh, guarda, giusto, perfetto, perfetto, sullo stile uso Starela, su Glyba uso l'Axel e per te ne metto un blocco, oddio, ma su Glyba uso il Starela, su Glyba uso il Starela, su Glyba uso l'Axel, vado a scendere la scendere, ammazzati, ma non è che sto facendo la scendere, oddio, continua a piovre, E' piaciuto sempre qua, è piaciuto. Allora, devo fare una cosa. Ecco. Morso. Zero Sparification. Tutto... Però saranno che non siamo ancora evoluti in Kirlian, però... Liga, niente. Oh no. Liga, niente. Sì, Liga. Per esempio, è proprio difficile da battere. Liga, niente. C'è una cosa. Ecco. Vediamo se riesco da battere con due attacchi combinati. Niente. Certo. Stredi io. Oh, Giu, la difesa. Faccio il rossetto per questa domanda? Boh, noi siamo cercati a attacco da roba. Niente? No, dovremmo fare... dovresti... dovresti costruire la rabbia, se non è veramente l'uomo di mano. Finca te. Dovrei il problema, questo c'è. Come ucciderlo? Ma tanto adesso che ci sono due pacchi combinati dovrei farlo e riattarci. Io in realtà non lo so. Veloce, relax. Wow, finalmente. Adesso tanto possiamo andare. Ma non altro. Quattro è stato qui. Buizze. Oh 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 oh. Ma dovrebbe essere più un po' cioè. Questa canace intorno. Oddio, ho po' certe. Non mori, non mori. Ma scelta là. Mort. Dovrebbe essere in teoria morto, morto, morto. Sì, morto. Ma non c'è, non c'è. Non c'è. La sandia non è sicuro. Non c'è. La sandia. Gabbai e... Mufferbi. Vabbio, Drift bling. Non c'è, non c'è la sandia. vai super fischiace no mamma mia ti ho contato queste pavimento che quando li uccidi ti fanno perdere la vita tu hai vinto e io ho perso ma ci abbiamo guardato tutti tu ho perso la fiducia di amica che te ci fanno ma per di cavolo se facciamo anche amore per essere penso tutti i giorni e poco credo proprio di che non ha dato di poco non importa neanche niente non importa neanche di che se essessi con queste cose non funzionano oh bravo gli sa già arrivate abbiamo super fischiace anche su un inferno che ora hanno dato al posto di questa l'aria che ci dice rupi 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 hai trovato una bacca mango guarda cosa sono arrivati a rupi rupi ho trovato una bacca più guarda qua si siamo arrivati a rupi a rupi soprattutto la piaccia raleše scopi scopi podcast vado a che alla dire bambini la prossima forse andrò il clima Ciao a tutti.